Vi presentiamo FilmoraScreen, un software facile da usare con una tecnologia di testo schermo intuitiva oltre ad uno schermo per il video editing. Puoi registrare le tue sessioni di gioco, webcam, audio e altro ancora, tutto contemporaneamente. Registra a 120 frame al secondo ed importa i tuoi footage in uno schermo per il montaggio completo dove potrai aggiungere cursori, effetti di testo, immagini picture in picture, note e altro ancora. Il pannello di esportazione video ti permette di esportare in tutti i tipi di formati e piattaforme. Scaricalo oggi per scoprire quanto è facile registrare il tuo schermo.